Trasmissione Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 19 febbraio, ore 21, Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre. Una puntata ampiamente dedicata alla necessità di fare chiarezza sulla corretta tenuta degli impianti termici e in questa ottica lo sforzo di Confartigianato Imprese Taranto che tanto si sta spendendo in queste campagne di sensibilizzazione, campagne nell'interesse esclusivo di noi stessi, della utilità sociale derivante appunto da una corretta manutenzione in termini di sicurezza e in termini di risparmio energetico. Lo faremo con il segretario provinciale di Taranto di Confartigianato Fabio Taolillo, lo faremo con Mimmo Acoto, componente del Consiglio di categoria termoidraulici di Confartigianato, Domenico Votano, presidente dell'ADOC, Francesco Basile, presidente dei manutentori di Confartigianato e Giovanni Palmisano, presidente dei termoidraulici. A seguire poi ci sarà una parte relativa a una decina di minuti dedicata agli sfoghi dei cittadini, a quello che il cittadino, le associazioni vogliono dire. E Polifemo che è un open space, che è lo spazio libero per tutti, riserva a ognuno di voi che volesse dire la sua questo spazio gratuitamente. E allora mettetevi comodi in poltrona, azionate il telecomando, canale 78 del Digitale Terrestre, Delta TV, Polifemo è con voi.